Presentiamo uno spettacolo dal titolo Vien Oltre a Kirkmincia, è un insieme di sketch, alcuni del vecchio repertorio del nostro gruppo, altri sono inediti. Questo spettacolo è stato fatto appositamente per questa occasione. Questo è il 43esimo anno di attività, siamo il gruppo fanese più longevo, quindi ripartiamo dopo un anno e mezzo che siamo fermi, adesso ripartiamo proprio con questo spettacolo. Sono delle rivisitazioni in dialetto e in chiave comica di programmi televisivi, sono insieme di programmi televisivi rivisitati in dialetto e in chiave comica, collegati fra loro da uno sketch. Sicuramente ci divertiremo. Il nostro obiettivo è quello, cerchiamo sempre di divertire, speriamo di riuscirci anche quest'anno.